Gentili telespettatori, buona giornata. La supermedia AG Utrend di oggi, sabato 9 novembre 2024. Fratelli d'Italia cresce dello 0,1 al 29,5%, il Partito Democratico scende dello 0,4 al 22,7%, il Movimento 5 Stelle all'11,4%, Forza Italia scende dello 0,3 al 9,2%, la Lega stabile all'8,7%, Alleanza Verdi Sinistra scende dello 0,4 al 6,1%, Azione scende dello 0,2 al 2,6%, Italia viva cresce dello 0,2 al 2,4%, più Europa cresce dello 0,3 al 2,1%, noi moderati allo 0,9%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.